Buongiorno a tutti, per prima cosa desidererei fare i complimenti ai miei giocatori. Sapevamo quanto sarebbe stato difficile giocare qui. D'altra parte squadre come Borussia Dortmund, Schalke, Bayer Leverkusen qui non hanno vinto. Il primo tempo oggi è stato davvero duro per noi, il Fosburg ha giocato veramente molto bene, abbiamo avuto dei problemi dal punto di vista dell'approccio alla gara, soprattutto per fare numeri a centrocampo, abbiamo avuto un'occasione noi, poi un'altra è capitata al Fosburg, non era proprio così che volevo che andasse. Nella ripresa il Fosburg ha giocato ancora meglio di noi, secondo me nel primo quarto d'ora, perlomeno fino al sessantesimo, poi siamo riusciti a segnare, a rimontare e a prendere in mano la gara. Con una serie di contropiedi ben fatti siamo riusciti a vincere la partita, per cui per noi è veramente importante essere riusciti a fare risultato, proprio perché sappiamo quanto sia difficile giocare qui. È stata la preparazione ideale per la gara che ci attende con l'Arsenal martedì e ovviamente anche in chiave Bundesliga abbiamo fatto un enorme passo avanti nella riconquista del titolo. Complimenti davvero ai giocatori.